Oggi quei ragazzi che hanno parlato con la mia squadra non mi sono piaciuti, mi dispiace, io accetto tutto, accetto le critiche perché siamo scarsi, va bene, ci prenderemo i fischi, ci prenderemo, ma non questi atti brutti, perché nel carcio ci sta, noi abbiamo vinto a San Benedetto, allora che fanno? E quello della San Benedetto è stato venduto, troppa televisione, troppi social, pensiamo un attimo a cosa, nel carcio capita, è un carcio di rigore che se ne vedono 100.000, ma se ne vedono in Serie A, in Serie B, in Serie C e anche in Serie D, quindi che vogliamo fare? La partita si era messa bene dopo un primo tempo che abbiamo sofferto, dove la Fermano al primo tempo ci ha dato una lezione di calcio dove ha giocato meglio di noi, però al secondo tempo eravamo padroni del campo dal momento che l'avevamo messo in difficoltà con il canote sulla fascia che ha fatto buttare fuori un giocatore e poi l'ultimo minuto, non siamo né Real Madrid, non siamo né l'ultima di questa categoria, siamo l'Avezzano, sappiamo che dovremo lottare fino all'ultimo minuto, se la gente di Avezzano ci sta vicino, ci aiuta, come ci ha aiuti Aldo sempre, oggi ho sentito un'atmosfera diversa dalle altre partite, non lo so, forse io ai miei ragazzi gliel'ho detto, non abbiamo fatto niente, siamo ancora ultimi in classifica, dobbiamo ragionare così, io ho detto ricordatevi una cosa, cosa significa essere ultimi in classifica, voi ce l'avete, lo sapete perché noi troveremo la Fermana con gli occhi della Tigre che avevamo noi a San Beto, hanno vinto meritatamente, poi arbitro, non arbitro, non guardo queste cose, io guardo il percorso della mia squadra, è una squadra che oggi sta in campo, se la gioca con tutti e non ci fa paura nessuno, però guai a pensare cose extra calcistiche, le squadre di Poghesci non esistono, perché Poghesci è una persona libera e pulita, e queste cose non se le fa, forse sono abituati con altre persone, l'Avezzano ha perso perché abbiamo sbagliato, fischiateci perché siamo scarsi, ma no perché siamo in mala fede.